ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indian play ita oggi siamo su the battle of politopia un gioco per cui devo ringraziare il buon ivan di pietro per avermelo regalato mesi fa non ho ancora avuto il tempo di portarlo ho deciso di portarlo oggi in una one shot dove lo proveremo è un gioco che supporta anche il multigiocatore pvp è disponibile per diversi sistemi windows mac ma anche mobile e su steam è la prima volta che mi capita onestamente su steam mi avvertito e supporta il gameplay asincrono nel senso che potete giocare il vostro turno presumibilmente online credo e chiudere il gioco e steam vi manderà una notifica quando è stato giocato il turno e tocca nuovamente a voi allora a livello di impostazioni siamo molto basilari mentre qua c'è la classifica uno al merito chi comunque è stato bravo queste sono tutte le razze che potete scegliere che cos'è battle of politopia è uno strategico un 4x dove ci si espande si conquista si fanno varie cose sala del trono con le mie partite e le info dove potete trovare vedete anche per google play app store e steam quindi ovviamente anche voi su mac os iniziamo la nuova partita si scelgono varie una razza da queste e tv speciali il gioco costa 12 euro 49 su steam ci sono razze speciali un po fuori dal mondo cioè ognuna le sue peculiarità io posso fare l'imperius montagne imponenti verdi vallate il clima qui è l'ideale per la coltivazione della frutta tv imperius inizia con la competenza organizzazione possiamo vedere partita anche la musica possiamo fare anche questi che mi ricordano robin hood si chiamano gli hoodrick altra musica le gialle foglie autunnali dei boschi sono nascondibili perfetti per i loro singolari evitanti decisamente appassionati di funghi la tv hoodrick inizia il gioco con la competenza arco ne ho guardate due possiamo guardare anche la baldo questi sono un po vichinghi sopravvivere per il rigido inverno nella loro foresta in un'impresa facile ma i baldur iniziano a prosperare qui la tv inizia con la competenza caccia no iniziamo con gli imperius facciamo gli imperiali andiamo a vedere vediamo se c'è un tutorial che ci insegna a giocare sei stato scelto per guidare la tv imperius esplora il mondo ed espalda il tuo imperio ma fai attenzione alle altre tv obiettivo ottieni il punteggio più alto possibile prima dello scadere il tempo ok il tempo 30 turni ok interessante così non fanno non da neanche l'idea di di essere una partita lunghissima possiamo muoverci abbiamo l'albero delle competenze dove possiamo andare a prendere varie abilità tra cui cavalcare la caccia la pesca la scalata per scalare le montagne interessante io prendo la caccia come prima cosa avviamo la ricerca e onestamente non so che cosa si possa fare comunque qui possiamo raccogliere allora produce un abitante vediamo un po se possiamo farlo qui no non possiamo farlo allora qua è uscito il cuore suggerimento dovresti terminare questo turno per ottenere più risorse poter muovere ancora l'unità per il pulsante nuovo turno ok turni rimanenti 29 che dobbiamo fa dovresti spostare questa unità se dovresti spostare questa unità seleziona l'unità tocca uno dei bersagli blu questi suggerimenti possono essere disattivati del menu no ci muoviamo all'esterno perché voglio andare a vedere che cosa c'è ok abbiamo sbloccato nuove cose c'è anche un villaggetto qua un villaggio ok qua c'è un suggerimento dovresti addestrare un'unità in questa città le unità possono essere utilizzate per esplorare il mondo attaccare i nemici difendere le città ok quindi clicchiamo sulla città e clicchiamo due le stelle ne abbiamo due al momento vedete che potete creare cioè creare fare la raccolta frutta perché abbiamo ottenuto due punti passando il turno in questo caso invece facciamo come dice il tutorial e addestriamo delle unità che hanno abilità di slancio fortificare ok abbiamo speso le due stelline qua non credo ci possiamo rimuovere passiamo il turno dovremo ri ottenere altre due stelline infatti e abbiamo spostare l'unità uno dei bersagli blu ok lo muoviamo qui ok vediamo adesso cosa succede raccogliendo ok abbiamo raccolto e abbiamo dato delle del cibo alla città dovresti spostare questa unità ok si spostiamo l'unità e continuiamo andare a esplorare andiamo a vedere cosa succede in questo villaggio e qua c'è un cavallo tecnicamente turni rimanenti 27 quindi in questo caso cosa facciamo ingresso si può tratturare il prossimo turno ok questo invece cosa può fare le stelle non le accumuliamo credo proviamo a spostarla di qua si si accumulano si 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 e onestamente però non so acqua c'è del pesce possiamo pescare ma non abbiamo le competenze adatte come sta andando la nostra competenza noi abbiamo già organizzazione però vedete che prima abbiamo ricercato caccia e adesso possiamo ricercare anche cavalcare no mi servono cinque stelline quindi non possiamo dobbiamo aspettare il prossimo turno quindi io attenderei in modo da conquistare anche questo villaggio abbiamo sei stelline albero delle competenze prendiamo cavalcare perfetto quindi in questo caso il villaggio è nostro clicco cattura e abbiamo convertito il villaggio bene e abbiamo tenuto un punteggio si è prettamente un gioco da mobile questo è chiaro qua possiamo muoverci possiamo prendere e fare caccia ma io voglio prendere cavalcare passiamo il turno ok il prossimo turno possiamo fare qualcosa statistiche abbiamo degli ottimi punteggi rispetto alle due tribù deve essere più divertente giocato online io credo comunque avendo ricercato la il cavalcare possiamo creare il cavaliere e abbiamo creato il cavaliere che muoveremo probabilmente il prossimo turno abbiamo un altro villaggetto che magari mandiamo lì a conquistare tutorial un po pesante perché continuano a dirmi di passare il turno continuano a dirmi cose piuttosto banali comunque il villaggetto ha preso il nostro aspetto quindi con le case si può muove più lontano il cavaliere quindi io muovo qui questo lo muovo qua questo dovremmo aver già cacciato credo no perché è infatti caccia ok produce un abitante per pimo lo facciamo ok abbiamo creato un cittadino quindi tecnicamente noi possiamo creare qualcosa se abbiamo non capisco la questione del cibo perché qua vedete posso crearne un altro però non posso perché perché mi chiede due stelline io ne ho due ma probabilmente non ho un cittadino quindi io adesso dovresti svolgere qui l'azione caccia per far aumentare la popolazione nella città più vicina ah ok 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 perfetto perfetto dobbiamo cacciare quindi ah lì la caccia non dobbiamo esserci vicini produce un abitante abbiamo prodotto un abitante ah ok 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 figo figo perché il caloca è salita a livello 2 e la produzione aumenta più uno può anche scegliere una ricompensa laboratorio o esploratore prendiamo l'esploratore che praticamente è una cosa a tempo credo che ci sta esplorando tutto abbiamo incontrato l'ixinxì il loro leader sinchina ha sbalordito alla vista della vostra imponente civiltà la scoperta di questa curiosa tribù di garantisce una spinta commerciale una tantum da 3 stelle ok questi sono cinesi insomma allora dovresti raccogliere con l'azione fra tutta aumentare la popolazione vedete che qua la cittadina qui potremmo farla portarla a due cittadini e dovrebbe aumentare infatti adesso prendiamo un laboratorio ok iniziamo già a capirci qualcosa abbiamo la città più grossa produciamo sempre la stessa cosa però però interessante perché adesso produciamo 6 stelle a turno molto interessante anzi questo qui imperio guerriero possiamo conquistare questo non è nostro tra l'altro quindi dobbiamo mandarci la qualcuno beh intanto passiamo il turno è il tuo turno questo è nostro catturo il villaggio così che possiamo iniziare a far salire anche questa cittadina iniziamo dato che produciamo tanto adesso spostiamo il cavaliere lì prendiamo queste e aggiungiamo una città la città non è ancora nostra quindi passiamo il turno anzi possiamo muovere questo così magari esploriamo cosa c'è lì il mio turno ok 21 ok adesso qua abbiamo conquistato la città che si chiama res no scusate voglio prendere questo ok così possiamo produrre qualcosa in città credo sì ma non è ancora il tempo perché voglio provare a vedere se possono essere sovrapposte no quindi noi adesso se entrassimo qui potremmo attaccarli ah è uno scontro tipo moda cinese ok albero delle competenze non sono tantissime dico la verità prendiamoci l'abilità arco con 10 stelline e ci abilita per ci dare lo spiritualismo che non so cosa sia però abbiamo preso l'arco quindi tecnicamente dobbiamo poter fare gli aceri infatti prossimo turno ok 7 stelline facciamo degli aceri li addestriamo subito che al prossimo turno li mandiamo addosso comunque questo non vedo effettivamente una forza comunque ci hanno ucciso di brutto ah ok qua 10 e qua 8 quindi li abbiamo un po' indeboliti quindi questo potrebbe andare a dare fastidio agli amici qui ok 5 e 4 perfetto perfetto non tanto però vabbè qua non si può andare avanti vedete l'abilità scalare ci serviva nel caso in cui volessimo scavalcare la montagna qua abbiamo l'arciere che possiamo muovere dal prossimo turno passiamo il turno ci hanno sterminati ok abbiamo l'arciere che posizioniamo qui potrebbe già attaccarlo a distanza infatti avrebbe senso ok fantastico e qua produciamo altri aceri li abbatteremo a distanza intanto abbiamo 8 stelline mi prendo questo vediamo se la pesca non ce l'abbiamo ancora 2 stelline però ce la possiamo prendere credo pesca 7 ci costa mannaggia ma no dai prendiamo anche questa frutta qui che facciamo salire la terza facciamo salire ancora la ok 11 stelline questa non la possiamo ancora prendere abbiamo raccolto tutto quello che potremmo raccogliere quindi questo potremmo attaccare di là ok e gli aceri si muovono lì e non possono attaccare nulla intanto rispostiamo la gente di qua questo è fuori dal nostro regno quindi non possiamo qua non possiamo più crescere che interessante turno rimaniti 17 se io lo muovo qui e lo faccio attaccare lì beh sì lo muovo qui e lo faccio attaccare lì ottimo possiamo andare a conquistare il prossimo turno la città prendo un guerriero lo addestro qua non possiamo raccogliere nulla però potrebbe essere una buona occasione per andare a conquistare Chabu la città molto schematico molto da mobile si presta bene davvero entriamo e vediamo se possiamo attaccare questi perfetto questo può attaccare questi sì sono tanti però iniziamo a spostare anche i guerrieri di là che almeno ahia ci fanno il paiolo eh sì eh sì ci fanno del paiolo qui produce un altro racere ottimo tu attacca questo aia mannaggia mannaggia non sta andando proprio benissimo ma carino carino soprattutto con amici intanto la città è cresciuta non possiamo conquistarla sì si può catturare il prossimo turno ok intanto vediamo se vediamo se possiamo ok ci siamo levati il pensiero produciamo altri arcieri vediamo se abbiamo altre ricerche interessanti spirito libero si sblocca il disboscare il tempio eliminare l'agricoltura interessante selvicoltura sì si vede la profonda natura di di gioco mobile però è carino funzionale abbiamo sbloccato la pesca la pesca ci dà cittadini non so se si potrà usare l'infinito ma non credo infatti qua non abbiamo più possibilità di crescere dobbiamo per forza prenderci la città ok il turno rimanente è questo abbiamo conquistato la nostra città quindi a questo punto è già una città grande ce l'hanno già fornita grande quindi diamo cibo alla città spendendo tante delle nostre stelline che avevamo iniziamo ad arrivare anche con gli aceri qua credo non si possa prendere perché fuori vediamo un attimo le statistiche che ci vedono in testa ma di poco perché c'è una tribù sconosciuta che noi abbiamo ok quattro città loro ne hanno due gli xin si hanno una città sola quindi dobbiamo darci un mosso e andare fargli fuori anche l'altra quindi tecnicamente la città non può produrre niente passiamo turno la città ci può fare un altro arciere fantastico che muoviamo prossimo turno intanto entriamo anche con questo e con questo e qua produci un cavaliere dai tanto stelline ne abbiamo tante questo villaggio produce questo non si può più pescare credo quindi non c'è modo neanche di conquistare questo magari ci sarà nelle competenze una possibilità di espanderci sì infatti abbiamo la caccia alle balene con 12 stelline e possiamo pescare le balene che sono qui ma sono fuori dal nostro territorio mannaggia me era la mia poca lungimiranza siamo al turno 19 di 30 andiamo lì e abbiamo l'altra città nemica che attacchiamo e questi ci suonano come zampogne vediamo se riusciamo ad attaccare di là no nel prossimo turno sì ci muoviamo qui il cavaliere lo spostiamo qua tanto qua siamo abbastanza protetti ok ci stanno ce le stanno suonando quindi la città qui potrebbe tu potresti spostarti qui e attaccarli qui produci un altro acere tu attacchi questi ok e tutti sposti qua ok che shazu poniamo fine diciamo a a shazu così eliminiamo completamente questa fazione però qua si stanno diciamo ingegnando perché eh ci attaccano a distanza lì c'è poco da fare dobbiamo ok dobbiamo spostarci però non possiamo spostarci granché eh quindi questo dice che dovrei spostarle ma non mi interessa eh dai 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 dobbiamo per forza entrare questo lo spostiamo qui questo no questo lo spostiamo qui quindi iniziamo a spostarlo lì ok dai ce la dovremmo fare quindi questo attacca questo questo attacca questo e questo entra lì no non si può tu attacchi lì e qui producine un altro un guerriero dai ok eh sono tanti eh però adesso turni rimanenti 7 siamo forse un po' fossilizzati eh sì stiamo per perdere nel senso che non siamo più primi come prima dobbiamo attaccare questi ok vorrebbe costruire porta del potere questo strumento epico monumento epico porterà la ricchezza alla città più vicina ecco questo attacca lì ok questo attacca qui ok non possiamo muoverci perché dobbiamo scalare le montagne quindi abbiamo accumulato un po' di cose facciamo scalata la ricerchiamo così che magari si possa andare a scalare la montagna e a prendere l'ultima città di questa fazione a parte che ci stanno attaccando come pazzi ok e vai presa il prossimo turno ok non possiamo più attaccare con nessuno ma ci spostiamo questi qua e il prossimo turno vediamo tecnicamente incontri Polaris il loro leader sembra un po' ostile ti saluta con diffidenza alla scoperta di questi imponenti attributi garantisce una spinta commerciale una tantun da 9 stelle ok abbiamo trovato ah confinano qua i Polaris Muni sono loro quelli che ci stanno per sorpassare sì però breve non credo ci sorpasseranno perché ora catturiamo o recuperare no catturare ottimo abbiamo una bella città grossa adesso e abbiamo eliminato probabilmente no gli Xingsi hanno conquistato altri territori quindi probabilmente infatti sono lì gli ultimi sono rimasti lì quindi dovremo spostarci sì sono si sono racchiusi qui hanno ok vediamo se riusciamo a fare un oh cavole ok ok buscia l'ultima città ok ci stanno andando conquistare le città di qua quindi magari ok poniamo subito fine allora aceri perché dobbiamo attaccare dalla distanza ormai siamo il popolo degli aceri noi qua ci hanno suonato questi stanno arrivando qui e ora finisce male al prossimo turno picchiali ok ok ora vai qui no tu vai qui sulla montagna e attacca questo tu vai tu vai qui e attacca lì ok prossimo turno lo prendiamo qua produci aceri ancora e tu produci cavalieri e tu produci aceri che dovranno difendere questa zona qui carina come meccanica stanno proprio attaccando qua comunque amico mio così no non volevo farti rimuovere lì mannaggia un altro acere no perché no perché non abbiamo più cittadini mannaggia è vero eh vabbè allora quindi tu attacca questo è perché anche loro ne producono ok e sì perché li producono anche loro col turno ok ok e no vabbè dai passiamo il turno ok qua continuano senza fine senza sosta uno due tre e ci prendiamo anche questa cambiamo il turno uh tempo scaduto mostra classifica non siamo minimamente con gli imperius però diciamo che non è andata malaccio battle of politopia 12 euro e 49 se vi piacciono i strategici di questo tipo ci volete giocare magari schermo condiviso con amici non è male si presta più a mobile da mobile senz'altro però è carino carino non so adesso se ok adesso si sono sbloccate modalità di gioco continua a giocare finché non resta una sola tribù che è interessante oppure la creativa con le nostre regole gli avversari la difficoltà il tipo di mappa la dimensione della mappa però non è un civilization un humankind uno stellaris o che si voglia dove si va di diplomazia quindi è un gioco tipo board game ma interessante carino spero vi sia piaciuto e ora attendo i vostri commenti qua sotto nei commenti insomma appunto alla prossima ragazzi e ciao 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 Grazie a tutti.